Estate non significa solo turisti, ma anche aumento della popolazione e maggiori possibilità per i malintenzionati. Per questo i carabinieri del Comando Provinciale di Macerata hanno attivato una serie di servizi di prevenzione e controllo per passare al setaccio il territorio, in un momento di particolare sensibilità. Tra ieri e oggi, anche con l'ausilio del velivolo del nucleo Olicotteri di Pescara, nell'area di competenza della Compagnia di Macerata sono stati effettuati controlli a Treia, a Pignano e Montefano, mentre la Compagnia di Civitanova Marche ha effettuato controlli principalmente nella zona della stessa cittadina, per garantire tutela e tranquillità a quanti sono giunti in città per trascorrere le vacanze, controlli anche a Porto Recanati, in particolare nell'area dell'hotel house. Nel corso delle attività sono state controllate in totale 110 persone e 60 veicoli, una decina quelle che, sottoposte e verifiche più approfondite, sono risultate già note alle forze di polizia. Si è trattato solo dell'ultimo di una serie di servizi analoghi già attivati e ripetuti su tutti i comuni della provincia e, in particolare, su quelli maggiormente interessati dai flussi turistici del periodo.